Meno vino ma di qualità nettamente superiore. È questa la previsione per la vendemmia 2017, figlia di un'estate particolarmente siccitosa. Vendemmia in anticipo quest'anno dunque con aspettative, dicono gli esperti, decisamente importanti. Si prospetta effettivamente una grande vendemmia, un grande prodotto e di conseguenza anche sarà sicuramente un ottimo vino. Tra l'altro siamo anche in anticipo per cui riusciremo a fare la raccolta in un ottimo periodo. Qualche grappolo è già stato tolto ma il grosso del lavoro inizierà la prossima settimana. Siamo sui 10 giorni di anticipo rispetto agli altri anni per le alte temperature e di conseguenza avremo sicuramente un ottimo prodotto perché ha piovuto molto poco e di conseguenza per la vita è solo salute. La siccità non c'è dubbio migliore alla qualità del vino, l'unico timore dei coltivatori è per le possibili bizze del tempo che già altrove ha devastato i vigneti. Abbiamo iniziato con la primavera con delle gelate tardive, per alcuni hanno avuto dei problemi. È iniziata la siccità, dopo di conseguenza immancabilmente quando arrivano i temporali arriva anche le grandinate per cui sicuramente ci sarà una minore produzione anche per questo motivo.